siamo di fronte a un magazziniere molto intelligente bravo bravo e questo questo è quello che è è un magazziniere automatico quindi cosa abbiamo fatto in più che questo magazziniere ti prepara anche la roba togliendoti microbi e virus anche quando ti dà l'oggetto però dietro c'è tutta un'organizzazione un'organizzazione data da un software dove c'è anche la gestione dello stock degli oggetti quindi io compro 10.000 paio di guanti ne metto dentro 100 alla volta dentro la cappa quando va sotto scorta la cappa mi avvisa ma anche quando va sotto scorta lo stock manda un'email al al buyer all'ufficio acquisti cosiddetto cosa se se rido ma pensavo adesso ai vaccinati influenzali eccetera va bene io sto in emilia romagna e l'ho fatto e l'ho trovato ma in altre regioni se avessero fatto come dici tu non ci sarebbero stati questi problemi di approvvigionamento